I fatti sono molto semplici. Abbiamo prodotto una richiesta di accesso agli atti come Movimento 5 Stelle e l'abbiamo inoltrata al Comune di Agrigento. Da questa richiesta di accesso agli atti è venuta fuori che nel 2014 sono state 1133 le sedute di commissioni consigliari svolti dai consiglieri comunali di Agrigento. Queste sedute sono costate in termini di gestione di presenza circa 300.000 euro. A questi 300.000 euro abbiamo aggiunto praticamente altre 100.000 euro di spese per rimborsi extra sedute di commissione che questi consiglieri hanno percepito. Un totale di quasi 400.000 euro. Questi dati, se rapportati alle sedute di commissioni consigliari svolte nel Comune di Trento, che sono 109, risultano dati parecchio esagerati. E quindi i ragazzi dei meetup di Agrigento li hanno resi noti, hanno denunciato pubblicamente questi numeri e se ne è interessata fortunatamente anche la stampa nazionale. E quindi il caso è diventato un caso di cui praticamente se ne è parlato in Italia. E da questa forma di sensibilizzazione partita dai cittadini a 5 stelle, anche gli altri cittadini del Comune di Agrigento hanno deciso di ribellarsi, indignarsi, mostrare quella rabbia buona, quindi riversandosi nelle piazze e protestando contro questo sistema. Da ciò è nata una pressione nei confronti della politica e la politica ne ha dovuto prendere atto. La politica alla fine ha ceduto e i consiglieri comunali si sono dimessi.